ben ritrovati per le previsioni meteo un ciclone in azione nella penisola scandinava riesce a pilotare verso la nostra penisola un fronte perturbato che domani favorirà instabilità pomeridiana sui rilievi e aree collinari più interne sarà un passaggio molto veloce tant'è che la domenica si annuncia piuttosto soleggiata perlomeno al centro nord in abruzzo mattinata quella di domani parzialmente nuvolosa ma con incremento dell'attività convettiva sui rilievi e conseguenti temporali che dai monti si estenderanno poi nelle aree più interne sia dei settori equilani che adriatici mentre rimarrà basso il rischio di pioggia nelle aree costiere la ventilazione sarà debole di direzione variabile ed il mare calmo ovunque le temperature minime della notte comprese tra 2 e 10 gradi e le massime di domani stazionarie o in leggera diminuzione comprese tra 9 e 17 gradi l'appuntamento con il meteo è per domani mattina buona serata